Sistema CS9600, corso registrato Componenti dell'apparecchiatura e pannello di controllo. Questo corso fornisce una panoramica dei componenti dell'apparecchiatura CS9600 e delle funzioni del pannello di controllo touchscreen. I componenti dell'apparecchiatura CS9600 sono... ...braccio rotante dell'apparecchiatura, modulo sorgente a raggi X, telecamere per posizionamento e monitoraggio, supporti per le tempie, base della mentoniera, maniglie, pannello di controllo touchscreen. Pulsante ON-OFF, bottone STOP di emergenza, sensore digitale panoramico 3D, braccio fisso dell'apparecchiatura, workstation computer CS9600, telecomando raggi X e il seggiolino che è opzionale. Pannello di controllo touchscreen Il pannello di controllo è una console soft-touch digitale alfanumerica. Permette di interagire direttamente con l'apparecchiatura per eseguire funzioni panoramiche e 3D. Funzioni del pannello di controllo touchscreen Pannello del programma e schermo d'anteprima Visualizza la gamma di programmi e permette di scegliere esami radiologici differenti in base alla edition dell'apparecchiatura dell'utente. Tipo di paziente Pediatrico e adulto piccolo, medio o grande Morfologia dell'arcata dentaria Tipo di traiettoria Opzioni standard oppure ortogonale Modo di imaging standard o low dose Uscita dall'interfaccia di acquisizione Pannello parametri d'esposizione Permette di selezionare e salvare i parametri d'esposizione per l'acquisizione dell'immagine radiologica. Entrata Entry del paziente Posiziona l'apparecchiatura nel modo Entry del paziente Telecamera per live positioning Attiva le telecamere per l'aiuto per il posizionamento dal vivo Demo Permette di mostrare al paziente le procedure di acquisizione senza i raggi X, il pulsante Regolazione rapida dell'altezza, quota, il pulsante Regolazione lenta dell'altezza. Cronologia History dei dati del paziente Durante un esame precedente dello stesso paziente, i parametri e l'altezza dell'apparecchiatura sono registrati automaticamente. L'apparecchiatura rileva questo automaticamente e l'icona assume il colore arancione. Selezionare per utilizzare i parametri registrati Quando i pulsanti per la regolazione dell'altezza sono evidenziati, l'utente può spostare l'apparecchiatura fino alla quota corretta prima che il paziente entri. Indicatore Ready, pronto Nero indica che l'apparecchiatura non è pronta per iniziare l'acquisizione. Arancione indica che l'apparecchiatura si sta preparando per l'acquisizione. Verde indica che l'apparecchiatura è pronta per iniziare l'acquisizione. Indicatore Warning, avvertimento Radiazione ionizzante Avverte dei pericoli dovuti alla radiazione. Blu indica che i raggi X sono abilitati. Verde indica che i raggi X non sono abilitati. Lock, blocco dello schermo. Smart Auto Pan Una funzione 2D opzionale che scansione il paziente e consiglia parametri per il paziente. I parametri consigliati sono visualizzati in arancione. Se modificate i risultati di Smart Auto Pan, le impostazioni saranno evidenziate in arancione e i nuovi parametri selezionati saranno in blu. Ulteriori funzioni sul pannello di controllo 3D sono Modo di imaging a risoluzione ridotta, standard o alta. Vi sono due funzioni utilizzate per valutare o modificare la posizione del campo visivo per l'immagine acquisita. Scout View, vista Scout 2D, utilizzata per acquisire una vista di una singola sezione sagittale per determinare se l'area d'esame è posizionata correttamente. Smart Auto 3D Una funzione opzionale che consiglia la dimensione del paziente e che visualizza viste di una sezione sagittale e assiale per determinare se l'area per l'esame è posizionata correttamente. Per utilizzare Smart Auto 3D è obbligatorio prima acquisire un'immagine 2D di una vista Scout. Poi si deseleziona Scout View 2D, vista Scout 2D. Allora sarà disponibile la funzione Smart Auto 3D. Filtro CS Metal Artifact Reduction Un filtro utilizzato per evitare distorsioni d'immagine causate dal metallo di oggetti quali protesi, viti o otturazioni dentali. Filtro CS Metal Artifact Reduction Filtro CS Metal Artifact Reduction